Conferenza di servizio al Dipartimento regionale dei rifiuti per trovare una soluzione alle emergenze esplose in una ventina di comuni del Palermitano che non possono più conferire l'indifferenziato nella discarica di Trapani. Intanto Totò Cuffaro, commissario regionale della DC, torna a ribadire l'importanza di realizzare i termovalorizzatori. Le discariche siciliane, ha detto, sono sature e l'acquirsi delle difficoltà nello smaltimento dei rifiuti nelle grandi città rende necessaria e non più procrastinabile la realizzazione. Soltanto nel Palermitano ci sono 12 comuni che non sanno dove conferire i loro rifiuti. La costruzione dei termovalorizzatori è stato uno dei punti del programma elettorale del presidente Schifani, Schifani, scelta che ci trova a Concordia e che viene condivisa dalla coalizione ed è proprio dalla condivisione del progetto che si deve partire per procedere quanto prima all'ITER che porterà alla costruzione dei termovalorizzatori. Ma sulla realizzazione degli impianti, il neossessore all'energia Roberto Di Mauro, in un'intervista rilasciata al giornale di Sicilia, aveva dichiarato che i ritardi nella pubblicazione dei bandi potrebbero essere legati alla mancanza di un business plan. Di Mauro ha però aggiunto che questi impianti hanno dei costi di gestione altissimi e questi costi andrebbero sostenuti dalle SRR e dunque dai comuni con la tariffa di smaltimento. Io credo che senza un contributo pubblico venga a mancare la convenienza a realizzarli. Il neossessore ha precisato di non avere aperto ancora i dossier, ma poi mette sul tappeto un altro problema. La tariffa di smaltimento in Sicilia è ancora molto diversa da provincia a provincia perché risente dei costi di trasferimento dei rifiuti. Dunque, probabilmente prima di pensare a questi impianti dovremmo anche ragionare sull'ipotesi di introdurre una tariffa unica nell'isola che sia la media di tutte quelle attuali.